buongiorno vi presento una serie di video cuciti insieme di una bellissima giornata passata in vacanza in barca tra chioggia rosolina mare e venezia buona visione ciao ciao alè ciao si qua sotto si è apposato fino a che mi hai detto sì guarda che bello quel balcone pieno di sorfiglie grazie a tutti Ma il tuo cugino Carlo devi mandare Non dormo Non dormo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.